Le 7 in punto, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus. In primo piano sui giornali di oggi le nuove tensioni nell'ambito della maggioranza sulla firma del memorandum sugli accordi per quanto riguarda la via della seta tra Italia e Cina. Tensione dicevamo nell'ambito della maggioranza con uno scambio a distanza, un botta risposta tra Salvini e Di Maio con Salvini che dice non mi venite a dire che in Cina c'è il libero scambio e Di Maio che lo gela dicendo lui può parlare comunque io agisco. Altro argomento in primo piano la Brexit perché ieri un milione di persone sono scese in piazza a Londra per dire no all'uscita dall'Unione Europea. In sostanza delle tante interviste raccolte la gente dice ci abbiamo ripensato, ci siamo resi conto che tutto questo va a nostro discapito. Sono state raccolte oltre 4 milioni di firme per indire un nuovo referendum proprio sull'argomento. Vedremo appunto come questa voce forte verrà raccolta dalla May che è sempre più isolata e soprattutto dal Parlamento. E poi c'è la questione dell'Isis perché è caduta l'ultima roccaforte, Baguz, il che significa che l'Isis non ha più il controllo del territorio in Siria, ma questo non significa purtroppo la fine dell'Isis stesso e del rischio terrorismo. Allora partiamo dal Corriere della Sera, ecco qui il titolo di apertura. Il patto con la Cina accende il duello tra i vicepremier Salvini, a Pechino non c'è il libero mercato e Di Maio che gli risponde, Matteo parla, io invece agisco. Vedete a centropagina questa fotonotizia, i kurdi esultano, caccia agli irriducibili l'Isis che perde l'ultimo baluardo. Poi di spalla la notizia che vi dicevo per quanto riguarda la Brexit, cosa ci insegna il caso Brexit? La piazza del no, il giorno della protesta. Ancora dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo una notizia di cronaca, cadono dal balcone morti due fratellini, erano in castigo, in casa c'era il padre. Andiamo a vedere l'apertura della Repubblica che oggi è dedicata ad un'intervista a Walter Veltroni. Yusoli, la sfida del PD, la sinistra non abbia paura dei suoi valori, presto al voto lo scontro è con la destra, il ministro dell'interno provoca il ragazzo egiziano, eroe del bus, Salvini dice vuole la cittadinanza, si faccia eleggere. Si parla naturalmente dell'accordo Italia-Cina, il governo firma l'accordo e subito si spacca, la lega attacca. Di Maio furioso, a centro pagina l'onda invasa dai no Brexit e la May verso l'addio, 4 milioni e mezzo le firme per un nuovo referendum. Restiamo in Europa, la Premier sfiduciata dai suoi e dicevamo sempre più isolata. Le parole di una delle persone intervistate nell'ambito appunto di questa manifestazione, siamo stati i primi a farci infettare dal populismo, dobbiamo essere i primi a tornare indietro. Andiamo a vedere l'apertura della stampa, Salvini prende le distanze da Xi, il leghista rassicura gli Stati Uniti attacca Di Maio, non mi dite che a Pechino c'è il libero mercato, si è conclusa la visita del presidente cinese, i firmati accordi commerciali per oltre 2 miliardi e mezzo. E ancora il test che ha del Russiagate si trova in Italia, intervista a George Papadopoulos. Ancora un milione di inglesi in piazza per dire no alla Brexit. E ancora Kini predestinato che spinge gli azzurri verso l'Europa. Ieri gli azzurri in campo che hanno vinto per 2-0 contro la Finlandia. Andiamo a vedere l'apertura del messaggero. Eccola qui, intesa con la Cina, lite nel governo, siglati 29 accordi per 2,5 miliardi. Ma a Salvini a Pechino non c'è il libero mercato, Di Maio lui parla di fare i fatti e Conte che dice siamo rimasti nel solco dell'Unione Europea, l'allarme del Colle. Oggi lo ricordiamo, la Basilicata al voto, la Lega è avanti, incubo flop per il Movimento 5 Stelle nelle elezioni regionali. Ancora a centropagina del messaggero, la mia in difficoltà è rispunta all'ipotesi delle dimissioni. Brexit, un milione di inglesi dice di no. E poi ancora, sempre dal messaggero, una notizia che riguarda Roma, la paralisi della metro A. A Roma chiudono le fermate in centro, Sigilia Barberini bloccata a Piazza di Spagna. Nuovi indagati in attack, il PM che dice rischio scale mobili. E ancora in taglio basso la notizia dei fratellini a Bologna, giù dall'ottavo piano, il padre interrogato in questura. L'apertura del Sole 24 ore quotidiano economico naturalmente è dedicata all'accordo tra Italia e Cina. Restano anche le telecomunicazioni, sia al memorandum firmati 29 contratti. Energia, l'Italia ha perso la partita delle rotte del gas. E poi ancora per quanto riguarda l'export in Medio Oriente, la zavorra per il Made in Italy. Ancora Londra in piazza, un milione di no alla Brexit. E poi l'ABI, sempre dalla prima pagina del Sole 24 ore. Lo stop dell'Unione Europea sul fondo di tutela è costato 12 miliardi. Il fatto quotidiano, eccolo qui. La Cina non piace a Trump, Macron e Salvini infatti conviene all'Italia. Cari 5 Stelle vi servono competenti come fattori, ma l'esempio di Jacinta vale anche per tutti noi. Ieri c'è stato un corteo a Roma contro le grandi opere inutili. Il no al TAV e il sì all'acqua pubblica in 50 mila a Roma con i comitati. E poi ancora a centro pagina da fatto quotidiano, ecco chi ha saccheggiato Roma. Cinque anni di scandali capitali dal mondo di mezzo allo stadio, il manuale della corruzione. Bene, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Riprendiamo subito dopo con la lettura dei giornali. Bentornati in studio, proseguiamo con la rassegna stampa di Omnibus. Anche l'apertura del giornale è dedicata alle tensioni nella maggioranza sulla firma del memorandum sulla Via della Seta. Botte da orbi, titola il giornale. Il governo deraglia sulla Via della Seta, accordi Italia-Cina, Di Maio fa il padrone, attacca Salvini mentre lui parla. Io faccio, è ancora un milione in piazza per la Brexit, ma il paese è spaccato. Se la Gran Bretagna ha paura di uscire dall'odiata Europa. Andiamo a vedere l'apertura di Libero, eccola qui. E a noi conviene affittargli, i cinesi si pappano la Sicilia, a noi conviene affittargli, la dice Libero. Il presidente Xi Jinping a Palermo per studiare un progetto da 5 miliardi, creare il più vasto porto europeo che darà lavoro a 435 mila persone. Almeno lui farà le grandi opere. Poi ancora, sempre sul Libero, oggi parla il comandante dei Carabinieri di Milano. Così abbiamo fermato il terrorista, quell'uomo che ha sequestrato l'autobus con 51 studenti a bordo e poi gli ha dato fuoco. L'apertura del manifesto è dedicata ad una manifestazione che c'è stata ieri a Roma. Una bella atmosfera, decine di migliaia in marcia per il clima contro le grandi opere inutili. In piazza tanti giovani della generazione di Greta insieme ai comitati che dalla Valsusa alla Puglia si battono per l'ambiente. La rabbia della base elettorale grillina tradita dai 5 stelle di governo. Apertura del giorno dedicata invece alla tragedia che si è consumata a Bologna. Il giallo dei due bambini che sono caduti dall'ottavo piano. Ancora l'apertura del tempo invece, eccola qui, dedicata alla metro di Roma che casca a pezzi. Chiusa una stazione dietro l'altra perché hanno ceduto le scale, ascensori e montacariche. Atac nel pallone a sbarrare Barberini. I bambini hanno dovuto pensarci i PM e stop pure a Spagna. E poi ancora a centropagina vedete questa fotonotizia. Esplode una villa, due morti e un ferito. Il dramma che si è consumato questa notte a Frascate. Apertura della verità. Occhio in Parlamento si rischia. Usano il terrorista per rilanciarlo. Iussoli approfittando dell'attentato di Milano e del piccolo eroe Rami. Il PD spera di trovare sponda nel Movimento 5 Stelle. Del Rio e compagni hanno bisogno di sostituire i voti degli italiani in fuga con quelli degli immigrati. E poi ancora il competente cadenda diffonde notizie false sul forum Famiglia. Ancora dalla verità all'ombra di Bergoglio sul patto con la Cina. Il Papa si è speso con il governo e con Mattarella a favore di Xi Jinping. Che lo ha ripagato visitando la cappella di Palazzo Reale a Parermo. Invitando una delegazione in Vaticano. Però i nodi restano. L'apertura dell'avvenire. Eccola qui la vediamo rapidamente. Il lavoro più giusto. Il forum per comprendere anche la Caritas lancia tre vasti progetti dopo due anni di studi. Dalla società civile proposte per limitare le disuguaglianze con i nuovi mezzi. Sia al salario minimo e ai consigli per la cittadinanza attiva nell'impresa. Poi una storia. L'imprenditrice solidale che aiuta la Tanzania. Ancora l'ultimo quotidiano. L'ultima prima pagina che vi faccio vedere è quella del mattino. Però per richiamare la vostra attenzione su due notizie in particolare. Sciocca al Cardarelli. Sabotato il salvavita dei malati di cuore. Una graffetta. Bloccato il sistema di allarme all'unità coronarica. La procura apre un'inchiesta. E poi ancora in taglio basso. In Norvegia. Una crociera da incubo. Avaria tra le onde. 1300 passeggeri. Soccorsi con elicotteri. La nave costruita ad Ancona. Allora andiamo a vedere le pagine interne dei quotidiani. Soprattutto per cercare di capire un po' di più quello che sta succedendo per quanto riguarda queste tensioni nell'ambito della maggioranza. Allora innanzitutto siamo sulla stampa. Questi accordi con la Cina per 2,5 miliardi. Così si fa litigare Di Maio e Salvini. La firma del memorandum a Villa Madama apre un nuovo fronte nel governo giallo-verde. Il leghista non è un libero mercato. La replica ha il diritto di parlare ma io ho il dovere di fare. Così il botta e risposta a distanza tra Salvini e Di Maio. Fondi per Genova e Trieste. Nell'intesa spunta il 5G Washington. Già in allarme. I capitoli sui porti sono quelli che più preoccupano l'amministrazione Trump. Pechino avrebbe puntato una delle basi navali degli Stati Uniti vicino a Trieste. Ancora sempre dalla stampa. Eccolo qui. Il retroscena. La frenata di Matteo. Vediamo se riusciamo ad allargarla ancora. Eccolo qui. La frenata di Matteo per rassicurare gli Stati Uniti. Il Movimento 5 Stelle ignora i rischi. Il ministro dell'interno diserte e il summit di Villa Borghese va a Cernobio. Gli argomenti sono gli stessi usati da Giorgetti con gli interlocutori americani. Allora leggiamo una breve parte di questo articolo. Matteo Salvini osserva da lontano gli accordi tra Italia e Cina. È consapevole dei vantaggi economici per il nostro paese. Cavalcati con entusiasmo dal suo alleato Luigi Di Maio. Un entusiasmo eccessivo dettato dal protagonismo del ministro per lo sviluppo economico. Che ha messo la sua firma su tutti i trattati con Pechino per il leader del Movimento 5 Stelle. È stato un momento di gloria e di grande esposizione sul piano internazionale nei confronti del sistema industriale italiano che ha visto in primissima fila anche il premier Giuseppe Conte. Tutto in un momento in cui 5 Stelle annaspano nei consensi e tentano disperatamente di tornare a galla per l'appuntamento elettorale delle europee. Ma Salvini che questi problemi non li ha, vede arrivare un problema da oltreoceano. Non è preoccupato delle reazioni di Francia e Germania che insieme alla Commissione di Bruxelles avvertono il pericolo di una fuga in avanti di Roma di un paese del G7 rispetto alla necessità di una risposta europea al gigante cinese. Salvini teme il contraccolpo che può avvenire dagli Stati Uniti alle prese con quella che nella Lega definiscono la più grande guerra nella storia mondiale del commercio. Questo appunto quanto ci racconta la stampa. Il messaggero, il governo a rischio paralisi e il colle teme l'escalation. Questa è un'altra analisi di quello che sta accadendo. Eccola qui. Le fibrillazioni del vice premier destinate a durare fino all'elezione europea di maggio. I sospetti dei grillini. E Salvini vuole andare a Palazzo Chigi con la benedizione degli Stati Uniti. Leggiamo anche qui un breve passo. È stato Mattarella a chiedere reciprocità, parità di condizioni per evitare il rischio di un atteggiamento predatorio da parte del dragone. È toccato a lui fissare quei paletti indispensabili quando si va a stringere un patto con un rivale sistemico per usare una definizione del Consiglio europeo di venerdì. Una perimentazione indispensabile per superare i sospetti di Trump. Di un tradimento c'è da giurarci. Mattarella compirà anche a fine giugno quando riceverà a Roma il presidente russo Vladimir Putin. Quindi a mediare in questa situazione in cui c'è questo scontro a distanza tra Salvini e Di Maio c'è stato anche Mattarella. Vi segnalo per un approfondimento sul messaggero da pagina 4 tutti gli argomenti che riguardano questo memorandum. Che lo ricordiamo rappresenta una cornice quadro che poi dovrà essere messa appunto nel dettaglio. E ancora sempre su questo, adesso sappiamo che il presidente cinese è in Francia. Macron vuole arginare il dragone, no a patti bilaterali. Parli l'Europa. Tensione tra Pechino e l'Eliseo che chiede un fronte comune dei 27 per frenare le mire cinesi. Il presidente cinese incontrerà martedì anche la Merkel insieme a Macron. Cambiamo argomento. La Brexit, l'onda invasa dal corteo record, la stampa a May vicina all'addio in strada per un secondo referendum. 5 milioni di firme per revocare l'uscita dall'Unione Europea. Anche se appunto a meno di miracoli ci dice questo articolo sarà tutto inutile. Come sarà inutile la petizione online arrivata a quasi 5 milioni di firme per chiedere al governo di revocare di netto la Brexit. la May vuole andare avanti con il suo accordo fino alla fine fissata per il 12 aprile quando Londra dovrà decidere che cosa fare se il suo Parlamento continuerà a respingere il suo accordo ma chissà quanto resisterà. Questa appunto l'analisi al momento della situazione. Andiamo rapidamente a vedere un titolo che riguarda la questione dell'Isis importante. Caduta l'ultima roccaforte, l'Isis resta senza terra alla fine del califato, i kurdi liberata Baguzze, le incognite di Reduce e di prigionieri. Bene, ci fermiamo con la rassegna stampa, la linea Paolo Sottocorona per le previsioni del tempo. Sì, buongiorno. Questa non è la carta delle piogge previste per la giornata di oggi perché non ce ne sono. Facciamo previsioni di qualche nuvola. Vedete qualcuna al nord, al centro e al sud veramente poco. Di piogge ormai non se ne parla più ma qualcosa, adesso vedrete che arriva. Seconda parte della giornata di oggi, forse debolissime piogge all'interno della Sicilia, ma insomma non ci conterai nemmeno tanto. Qualche pioggia debole al di là dell'arco alpino. Vediamo allora domani che cosa succede. Vedete che qualcosa entra nel senso che al nord c'è una certa nuvolosità. Le piogge sono dove anche le vedete indicate sono deboli, è un millimetro nelle 24 ore, veramente poca cosa. Poi lungo l'Appennino, ecco sull'Appennino centro-meridionale forse una zona ci potrebbe essere qualche pioggia leggermente più consistente. Se no sono piccole zone in cui ci può, cioè piogge isolate deboli, sporadiche, insomma non so come sminuire ancora, veramente poca cosa. E poi vediamo però la giornata di mercoledì in cui cambia la circolazione, vengono venti da est e quindi centro e sud potrebbero avere precipitazioni localmente anche consistenti. Questa è da confermare perché potrebbe sfumare, potrebbe ritardare, adesso vedremo. E di nuovo le piogge risparmiano, nel senso che non interessano il nord e nemmeno gran parte del centro e al nord le piogge, lo continuiamo a dire, ma insomma qualcuno lo sollecita, dice bel tempo. Bel tempo e cattivo tempo non dipende dal fatto che sia buono o cattivo. Allora, vediamo velocemente le temperature minime di questa mattina, sono salite anche al nord su valori forse addirittura localmente sopra media. Lo stato dei mari per la giornata di oggi si va accalmando un po' ovunque siamo in zona di pressione che sale, quindi tutti i mari centro-settenzionali sono calmi. Soltanto quelli più meridionali, assegnatamente lo Ionio e a largo, potrebbero essere molto mossi. Se volete il prossimo appuntamento è subito prima delle 7.55 con le informazioni meteo e qualche foto che state già vedendo. Adesso c'è la pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale.